Ciao a tutti ragazzi, sono BigMitch, mancano praticamente 3 secondi e potete vedere che vi sto presentando una partita particolare dove sto facendo un quick play su Overwatch In questa partita ragazzi stavo usando Anzo, che praticamente sarebbe il mio main personaggio, perché io adoro Anzo Sia perché è complicato da usare, ma proprio perché quando ammazzi nemici dà una sensazione proprio di soddisfazione In cui innanzitutto utilizzo una freccia spotter per poter ammazzare, cioè vedere la persona e ammazzo con un scatter invece subito la healer Quindi praticamente indietreggia quel famosissimo Reinhardt, ecco perché io ammazzo anche Fara Perché praticamente la combo Farmacy-Fara e nel contemporaneo anche Mertz è un po' una rottura di coglioni Nel frattempo potete vedere come nella mia squadra comunque giocava bene Avevo Taichi ragazzi che nonostante si sia suicidato era veramente molto bravo, era un'ottima tracer Qui abbiamo Sombra che era il mio alleato, ha aggerato praticamente il bounder di salvezza e praticamente di rigarga di HP Io stavo spottando il cielo perché c'era Fara, qua la Widowmaker non ha avuto scampo, spotter in faccia E poi praticamente diretto per dimezzare la salute e mandarla nell'inferno Sono praticamente diventato on fire e questo ragazzi è quello che io dico quando le persone dicono non bisogna mai usare Anzo in attacco Non è vero perché dipende dallo stile di gioco, come vedete io sono un Anzo, anche se dovrei stare in difesa Sto sempre dentro alla zona di conquista, sto a 5 di fila, ho ammazzato Bastion e c'è Fara che è una rottura di coglioni tremenda per me Il mio counter è perfetto, quindi stavo cercando di andare verso Reinhardt Ma nel frattempo vedo che ci sta anche Reaper, se non sbaglio lo ferisco ma mi ammazzano Sprego l'Hutti ragazzi, chiedo scusa, io ancora l'Hutti non le so usare Anche perché è relativamente poco che c'ho il gioco, è vero che c'ho su livello 122 Ma c'ho 28 ore di Anzo e basta, nel senso io dovrei riuscire a sapere come usare le ultime Vado in panic attack, qua praticamente c'è la healer che l'ho ammazzata di nuovo poveretta Quindi loro potevano solamente indietreggiare Nel frattempo c'era un Genji che aveva appunto ricevuto un Orbs da Zegnata In modo tale che potesse ammazzarlo subito, però il problema è che lui se ne è scappato Ferisco Reaper ragazzi e rimango dalla zona centrale Come ho detto, guardate, sto sempre in attacco, cioè alla fine sto in conquista io Nonostante dovrei stare in difesa Preparo lo scatter, lo lancio in predisposizione, mi rendo conto che c'era appunto Reinhardt Sono da solo e c'ha poca vita, quindi vado dietro lo scudo per ammazzarlo Ma se non sbaglio lo ammazza qualcun altro No no, lo ammazzo io ragazzi, ammazzo io insieme a Zegnata E qua è la prima volta che mi ammazzano a 9 di fila Ragazzi guardate qua, se non sbaglio qua io salvo la partita ragazzi Vabbè c'ho 4 medaglie ora al momento ma io salvo la partita perché vedrete Guardate, stanno a 90, noi siamo a 97 ma stavano per conquistare di nuovo il coso Stavamo per perdere, vedo Farah praticamente, vedete Siamo a 99 e loro stanno per conquistare Farah la ulti, bam, ciao ciao Farah E di over time si conquista Cioè ragazzi è vero che avrebbero avuto tutto un 99 per poter vincere la partita Quindi non era detto, però ragazzi almeno sono stato sicuro di silenziarla E di portarmi a casa la vittoria Quindi primo round 1 a 0 per noi, ci si becca dopo Rieccoci ragazzi praticamente a 4 secondi all'inizio del secondo round Nella mappa Ilios che dovrebbe essere appunto una mappa spettacolare dove c'è il Farah Infatti c'è il Farah, ragazzi io adoro questa mappa È una mappa spettacolare, diciamocelo Io praticamente mi metto sempre con Anzo all'interno del Farah Per poter spottare i nemici ma non solo Nel senso non solo li spotto ma cerco addirittura di gestire la situazione della parte interna Quindi in attacco, addio McCree Perisco il buon vecchio Reinhardt Nel frattempo c'era quella maledetta Farah che mi stava ammazzando Ammazzo praticamente Bastion Anche se non sono stato io scusato, ho sbagliato E c'era Reinhardt che stava pochissimo Quindi il tank è stato eliminato Reinhardt è stato ammazzato Da solo ragazzi guardate, da solo, da solo conquisto praticamente il punto Quindi non mi venissero a dire persone No vabbè, non è buono in attacco Non è vero ragazzi, dipende tutto da come giochi Un Anzo se sa giocare, gioca sia in difesa che in attacco È vero che magari me la sono rischiata Concordo Però potete anche vedere come me la sono gestita bene Perché comunque sia ho conquistato da solo Con una freccia grazie a Senata riesco appunto a ammazzare McCree Nel frattempo indebolisco anche la healer che è stata ammazzata da Winston Vedo che c'era questo cazzo di Genji Scusate Genji ragazzi che l'ho praticamente shottato Lancio una ulti spregata ma l'ho fatto solamente per poter Far sì che praticamente i nemici potessero allontanarsi da quella zona Richiedo un po' di healing perché c'ho solo 10 Guardate Zegnatà sta vicino a me Guardate quell'healer sta vicino a me Io c'ho 10 di salute e non mi cura Sono dovuto tornare indietro ragazzi Cioè per spiegarvi sono dovuto tornare indietro Per curarmi Perché quello là non si è reso conto che io stavo a 10 di salute Capisco che è difficile giocare di healer Però per camminare se sei a 20 metri E c'è scritto proprio in testa critical Quello stava pensando ad attaccare proprio a occhio Certe persone non capisco Cioè io stesso che non sono un healer Mi rendo conto che certi dettagli potrei anche gestirli bene Qua lancio una freccia se non sbaglio Volevo lanciare la scatter ma Cioè non volevo lanciare la scatter ma l'ho lanciata per sbaglio Nel frattempo c'è Far che non l'ho beccata neanche di botto Cioè niente proprio Lancio una spotter per vedere la zona E decido di rimanere dentro Cioè gli altri stavano tutti avanzando ragazzi Ma io ho detto no io preferisco stare in difesa Qua basta niente veramente niente ragazzi Per poterci distruggere Questo proprio Reinhardt fa appunto il Cerca di andare avanti ma lo ammazziamo in 3 Poi nel frattempo viene ammazzata anche l'healer E potete vedere come siamo 80% del secondo round Ma c'è Far Io rimango sempre nel punto lancio se non sbaglio Lo scatter preventivo per vedere se ci fosse qualcuno C'è quella Far che stava prendendo nella zona centrale Per poter appunto conquistare la zona Bastion sta lì lo ferisco e bam muore Bastion Poi adesso ha 10 di fila e stiamo ancora gestendo benissimo la zona di attacco Manca pochissimo ragazzi Però c'è l'RS di appunto Mercy Nel frattempo c'è questo Genji che mi ammazza all'ultimo Peccato veramente un peccato E c'è stato il nostro segnatà che ha fatto l'ultimate E se non sbaglio ragazzi La partita dovrebbe finire a pochissimo Perché principalmente è stata Diciamo conservata la situazione di vittoria Infatti io esco se non sbaglio e abbiamo vinto Perché mi rendo conto che John Kratta ha ammazzato tutti e abbiamo vinto E ciao Quindi niente ragazzi che dire Questa era una partita semplice con 20 kill 9 objective kills Tantissimo Anche gold in objective time Posso dire che è spettacolare come partita Anche se comunque sia era all'inizio Il play of the game credo sia di ATK Infatti di ATK Che non mi ricordo se era appunto quello della squadra nostra O quello della squadra avversaria Che mi ha ammazzato a me Giustamente Che ha fatto una cosa spettacolare Guardate qua Cioè Era veramente bravo ragazzi Era un ottimo Genji Che ha usato al massimo dalle sue capacità Il suo Proprio la sua abilità 4 medaglie gold Ragazzi che dire Ci si becca al prossimo video Ciao e bella polletti Ciao e bella